È il giorno di Tony Easley, della sua presentazione. Il tuo sì a Pistoia, cosa ti ha convinto? È un ambiente che ricorda molto quello in cui sono cresciuto a livello cestistico, che è quello di Murray State. La partita di lunedì effettivamente mi ha dimostrato questo, quindi il posto migliore per me. Grandi doti atletiche, grande fisicità, ma Easley non è solo questo. La caratteristica principale è forse il grande sorriso, a parte le battute, la passione, quella ce la metto sempre e comunque contro ogni tipo di avversario, è forse anche la dote che i compagni solitamente mi riconoscono di più. Penso di essere fondamentalmente, oltre il giocatore di basket, una persona positiva all'interno del gruppo e questo credo che debba essere il mio ruolo. Hai visto il match con Milano, che idea ti sei fatto? Della squadra e dell'ambiente? Tutto quanto è stato eccezionale dall'atmosfera creata dai tifosi prima durante la partita, al fatto che la squadra, nonostante la sconfitta, sia uscita fra gli applausi del pubblico, così come è stato effettivamente bello vedere come è stato accolto Daniel al suo ritorno qui a Pistoia. E poi ovviamente sul campo si è visto una squadra che lotta, che lotta duramente, che gioca insieme, dove tutti i giocatori giocano uno per l'altro e non ci si preoccupa di chi è che segna di più e questo sicuramente per il mio modo di vedere il basket è un qualcosa di estremamente positivo. Allora non resta che il saluto ai tifosi. Ciao, sono qui. E' la prima mia esperienza, la prima mia partita in questo 2015, quindi insomma non vedo l'ora di giocare, sono pronto a farlo. E' davvero pronto a giocare.